Signore e signori, finalmente è arrivato il momento di Ermanno Bidone. Mai sentito questa serata, è qui che si prepara. Allora, dopo aver collaborato con diversi gruppi che partecipano al Memorial proprio questa sera, nello spirito che contraddistingue gli incontri musicali dedicati a Claudio, ora ci presenta il suo progetto, Ermanno Bidone Acido Relax, appunto, e ci fa ascoltare due suoi brani. I titoli ce li vuoi dire? Dio Dio. Se li sai, sì. Non mi ricordo il primo, dunque, uno si chiama Tony Falena, mentre l'altro si intitola Via dei Sogni Accesi. Ok. E' una storia proprio in acido relax. Ok, allora. Questa canzone spiega un po' il titolo di questo. Vi lascio il palco. Buon ascolto, Ermanno Bidone accompagnato da Matteo Nobile e da Antonio Francesco Curedda. Grazie. 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 Buon ascolto. Ancora che parla di un soso e si chiede dove so che il mondo è una camera bianca imbattita e in un angolo si ostina a nascere un fiore. La Gramatica 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 La Gramatica